Il bilancio è di tre morti per l'esplosione che si verificata in una fabbrica che smaltisce e recupera polvere da sparo da bonifiche a Casalbordino, in provincia di Chieti, il gravissimo incidente è avvenuto nell'azienda Esplodenti Samino, di Contrada Termi. La notizia è stata confermata dal primo cittadino Filippo Marinucci, le tre vittime dell'esplosione sono CS di Casalbordino, IP di Pollutri e NC di Guigli, gli operai 45, 46 e 54 anni sarebbero morti sul colpo.